Grazie a tutti! Gli hanno messi al mondo giusto perché loro vanno in pensione, quindi loro devono andare avanti con questa tradizione salentina. Ma per adesso non vanno in pensione, ero un uomo loro. Stefano e Emanuela sono fratelli e sorella. Per chi non lo sovesse, vai Stefano, mamma mia! Le mani, ne vengono al tempo, vai tutti quanti! Sette, sette, sette! Salento ci siamo! Grande sera d'ora qui, centracoloni, dottore San Giovanni, grazie! Le vostre mani, la loro carica, le vostre mani, la loro carica, vai con le mani! La loro carica! La tua carica! Lennere! Le 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 Grazie a tutti.